Si è schiantato contro il muro laterale del sottopasso che da via del plebiscito porta verso la stazione di Padova. Tragico incidente stradale, giovedì sera a Larcella. Un 31enne marocchino è morto su colpo. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Gli agenti della polizia locale hanno eseguito i rilievi fino a tardanotte per tentare di far luce sulla causa esatta dello schianto. Due le ipotesi considerate al momento. Un malore improvviso del Centauro oppure una sbandata dello scooter Gilera che anziché imboccare il tunnel si è schiantato contro la parete.